Cristina si accomodi lì. Ah buonasera Maria. Ciao. Accomodati lì. Grazie per avermi invitato. La carabella è tutta bella. Andiamo a nozze. Hai la barca lì per caso? Eh? Hai la barca lì per caso? Ho la barca? Quanti anni hai Mario? No mi scusi 57 ieri. Porca miseria non è che li porti molto bene però eh? Guardi. E perché quando ti fa comodo allora mi difendi tanto perché... No no no. Non è così. Se io ti scrivo su whatsapp Gemma viene fuori un diamante che ho scritto... A te cosa ti viene fuori? Tira! Ho paura che esco e tra i tre giorni non ho visto abbastanza. Se proprio ti piace che la notte non ci dormi e ci pensi... Devo venire qua a perdere tempo? No. Piuttosto faccio la figura di quella che sei innamorata subito e poi via.